Un tempo l'ultimo arrivato al Giro d'Italia veniva premiato con la maglia nera, se per chi vinceva c'era la maglia rosa, per l'ultimo c'era la maglia nera. Sembrava un premio quasi da presa in giro, in realtà portava con sé anche un piccolo premio in denaro degli oggetti che venivano regalati, dei comuni che venivano attraversati, che lo rendevano un risultato molto ambito, soprattutto dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando ovviamente c'era tanta povertà e ogni possibile guadagno era ben visto. Proprio per questo un corridore, peraltro anche abbastanza abile, chiamato Luigi Malabrocca, riuscì a rendere quella della maglia nera una vera e propria epopea, cercando in tutti i modi di arrivare ultimo e di ottenerla. Qual è la sua storia? Beh, ne parliamo domani nelle nostre pillole di sport, in una pillola proprio dedicata al ciclismo. Vi aspettiamo sul nostro canale YouTube e la Biblioteca di Alessandria, link al video nel primo commento.